Comincio da questa qua, da questa più bassa, è un intitolato essere umano Abramo ed è appunto un essere umano, il corpo di un essere umano anziano che è stato ripreso e colto ogni momento privato davanti alla carta da parati del salotto ed è un corpo che si fa una domanda a cui non riesce a rispondere, in realtà la domanda non è niente di complicato o di esistenziale, però è quella domanda che crea un fermo nel tempo, che lo ferma e è un momento di sospensione totale, è vestito, è nudo solo con le mutande perché è un momento privato, quindi un momento dove non viene guardato da nessuno se non da se stesso e nel privato, che è uno dei temi che ricorre più frequentemente nelle mie opere, nel privato può accadere di tutto, il momento Pirandello lo descriveva in una novella come c'era l'avvocato nella novella della carriola che nel privato prendeva questo cane e lo trasportava come se fosse una carriola ed è proprio il momento in cui ognuno libra il proprio sé, quello di sopra invece è un'intervista e l'intervista però anche lì ricorre la questione della domanda, è la domanda a cui uno non sa rispondere, questo è stato ispirato a una domanda che è stata fatta ad Andreotti durante una trasmissione televisiva, gli è stato chiesto quale sarebbe stato il futuro dei nostri bambini, lì lui ha avuto una sorta di mancamento, di malore e in realtà per chi lo guarda, almeno per me che lo guardavo da fuori, è stato il momento in cui non è riuscito a rispondere, il politico è l'uomo potente che ha una risposta per tutto, lì non è stato in grado di rispondere perché di fronte all'innocenza del bambino e alla pesantezza della domanda non ha potuto trovare il sotterfugio o la regolina per far tacere tutti. L'altra cosa è l'ossessione di queste mani che si vedono sullo schermo televisivo che vogliono sempre sapere qualche cosa, anche nei momenti, nelle situazioni meno adatte, però ormai è diventata una routine quello di chiedere come stai, cosa sta succedendo, che cosa farai dopo in situazioni incredibili, quale può essere la tragedia e così via. rappresenta un momento anche questo di totale disincantamento dalla realtà, di sospensione, il tempo si ferma, si allunga, si dilata, mentre lo spazio è totalmente costretto con queste mani che sono più quasi delle lance che lo vogliono incastrare come fosse un San Sebastiano alla parete. Spesso c'è questa contraddizione tra il tempo dilatato e lo spazio invece che si stringe sempre di più e crea un luogo di contenzione, contenzione che poi il corpo che ho riassunto qui invece nel corpo del cane, che è una sorta di proiezione del corpo umano, del padrone, c'è sempre un guinzaglio che tiene, che crea la contenzione, che blocca, che non permette di liberare l'energia del corpo dell'animale. Allora per me il cane, come ho detto, è una proiezione del corpo umano e rappresenta il lato più animalesco dell'essere umano in tutte le sue parti più intime, dall'esposizione dei genitali, al guardarsi i genitali, al senso di prostrazione, di inquietudine, no inquietudine è una parola che non voglio usare perché non sono inquietati questi soggetti, però di totale solitudine. Allora inquietudine non la voglio usare per un motivo ben preciso, adesso stiamo sentendo molte persone che definiscono queste tele inquietanti, in realtà io trovo che siano immersi in un'atmosfera di quiete totale, una pace dei sensi totali che però funzionano perché per chi le guarda invece va a creare, a smuovere delle emozioni e ad inquietare. Le opere di per sé sono assolutamente quiete, l'inquietudine è per chi le guarda ma è un risultato che si vuole ottenere. L'opera che serve solo ad abbellire le pareti personalmente non mi interessa, devono risvegliare qualcosa in chi le guarda altrimenti non sarebbero opere, sarebbero l'ennesimo quadretto che serve ad abbellire le pareti delle case. Altra cosa, uso colori molto sgargianti rispetto anche agli altri che sono qui perché secondo me danno una connotazione fumettesca, questo anche nel tipo di segno che utilizzo, che va ad alleggerire un po' l'opera, dare un tono di colore ironico ai temi che magari sono un po' più pesanti in modo da sempre creare contraddizioni e dei contrasti. Questi personaggi a me ricordano e prendono spunto molto da Buster Keaton e in particolare dalla sua incapacità di affrontare il problema del vivere. Penso che tutti viviamo un po' alla Buster Keaton, quindi un'incapacità di affrontare i problemi importanti e l'incapacità di sorridere di questioni fondamentali, facendo però molto ridere per chi fa l'osservatore. Cerchiamo di nasconderlo e trovo che sia un'ingiustizia perché invece è una parte, una componente fondamentale del vivere. Questi sono personaggi che sono tutti ispirati allo sguardo di Buster Keaton, al film in bianco e nero, soprattutto per quel che riguarda le fonti di luci e le ombre che si creano. Per quel che riguarda i cani in particolare, lo spazio è stato scelto, questi sfondi sono gli sfondi che venivano utilizzati per fotografare i freak, quindi gli uomini più alti del mondo, le donne ciccione e i freak che venivano utilizzati nel circo, al Barnum Circus in particolare ed è come se andassero a riprendere la posizione che era prima occupata nelle fotografie antiche dai freak, dagli uomini deformi che venivano derisi dalla società e che in realtà dal mio punto di vista sono un esempio di bellezza. La deformazione non è, è una nostra deformazione mentale in realtà. Definiamo il nostro corpo normale, mentre se facciamo una descrizione astratta del corpo, ogni corpo, anche quello deformato è un corpo perfetto, bello e che può essere ripreso e diventare soggetto nel mio caso dei quadri. I freak dal mio punto di vista non sono corpi brutti, ma sono corpi bellissimi, normali tanto quanto il mio, ma con delle incapacità rispetto al nostro vivere sociale. Altre cose che posso dire riguardo il punto di vista mio, in queste opere non ci sono mosche, però generalmente c'è sempre una mosca che è il mio punto di vista, perché spesso mi sento un osservatore un po' come una mosca che gira all'interno degli spazi e guarda come osservatore testimone neutro, neutrale quello che accade, quello che mi accade intorno. E questo mi considero sempre così ogni volta che cerco di guardare le persone che diventano poi spunto per le mie tele.